Nuove opportunità di crescita del settore dell'oreficeria e gioielleria nei mercati emergenti. Questo è il tema attorno al quale si è sviluppato il convegno organizzato da Confindustria Toscana del Sud, Delegazione di Arezzo. Ci sono dei mercati che stanno emergendo, ci sono dei nuovi ricchi che come spiegheremo sono in aumento, si conta di averne circa 212 mila in più per il 2021, quindi i mercati da tenere sott'occhio sono molti. Noi come sezione ORAF stiamo lavorando affinché le nostre aziende possano proporre i loro prodotti nei mercati emergenti per aiutare soprattutto le piccole aziende, le medie aziende che non ce la fanno da sole a proporsi in questi nuovi mercati. Un incontro dunque volta a comprendere assieme ad esperti e studiosi le necessità del mercato estero e le tendenze mondiali per dare così maggiori opportunità di scelta alle aziende del distretto aretino che nonostante si confermi il più importante a livello nazionale risente degli scenari geopolitici che si sono delineati negli ultimi anni. Consapevoli che viviamo momenti di grande incertezza e per la prima volta dopo 15 anni purtroppo il commercio mondiale è in frenata. Di conseguenza c'è un impatto anche negativo per il nostro settore. Però il nostro settore, io nonostante questo vedo il bicchiere in mezzo pieno perché il nostro settore ha grande potenzialità di crescita perché nel mondo ci sono nuovi ricchi che hanno bisogno dei nostri prodotti, prodotti che non è più sufficienti, che siano belli, ben fatti, ma devono trasmettere emozioni. Esportare la dolce vita è il nuovo studio presentato nel corso del convegno, un focus speciale sul settore della gioielleria che ha preso in esame le importazioni nei nuovi mercati fino al 2021. C'è un potenziale di crescita fino a 15 miliardi di euro per quanto riguarda i prodotti del bello ben fatto italiano. Sono prodotti particolarmente curati per i materiali, la lavorazione, il design e vanno in quella fascia medio-alta di mercato che interessa questi nuovi ricchi. È una crescita significativa anche se più lenta di quello che abbiamo previsto gli anni passati. D'altra parte non è un mistero che i nuovi mercati, ossia i mercati emergenti, stanno attraversando una fase di rallentamento fisiologico, nella casa della Cina, più burrascoso e addirittura di recessione per quanto riguarda per esempio la Russia e il Brasile, invece promettente ancora per l'India.